Le marche tornano da oggi in zona arancione, questa mattina anche i negozi d'abbigliamento, calzature, hanno potuto riaprire. Siamo andati a sentire com'è andata questa prima mattinata. Hanno alzato la saracinesca alle 9 di questa mattina, riaprono i battenti, gli esercizi commerciali al dettaglio, così anche il centro storico di Pesaro, nonostante la pioggia, oggi sembrava un po' più allegro. Un ritorno alla normalità dopo oltre un mese di chiusura, anche se la situazione, come spiegano gli stessi commercianti, non è affatto rosea. Pochi se non nulli i ristori ricevuti fino ad oggi e nessuna previsione per il futuro, se non la speranza comune a tutti di proseguire a lungo con l'apertura. Come si sapeva è un pochettino difficoltosa perché tutto ciò che sarà il movimento lo vedremo giovedì, venerdì e sabato, per cui ancora questa mattina non possiamo capire quello che sarà l'evolversi della settimana. Comunque non è che noi siamo entrati questa mattina, abbiamo messo la chiave nella macchina, abbiamo acceso con la benzina e siamo partiti. Abbiamo dovuto mettere a posto tutto l'invernale, togliere, abbiamo lavorato lunedì dell'angelo, Pasqua per togliere la merce non venduta. Come è successo già l'anno scorso, tutto ciò che era il primaverile, quest'anno rimarrà un'altra volta il primaverile. Noi siamo l'ultimo anello della catena, la catena purtroppo è dalla distribuzione, la produzione e ciò che rimane nei magazzini dobbiamo sobbarcarci l'onere della spesa e questo comincia a essere un problema perché nessuno ci menziona mai in questo senso, ma noi abbiamo delle perdite molto elevate perché perdendo dei mesi di lavoro, ovviamente sono i mesi del primaverile, tutta la merce in stock rimane in magazzino. I ristori pochi migliaia di euro non vanno a coprire perdite di centinaia di migliaia di euro, questo è un problema. Senza ristori perché il commercialista mi ha detto che non arrivo al 30%, quella clausola che è stata messa del 30% è una cosa fatta apposta evidentemente per penalizzarci, non capisco perché si senta gente dire abbiamo i ristori, facciamo i ristori, facciamo qui, nessuno rimarrà indietro, eppure tantissima gente, tanti commercianti non hanno avuto né ristori né niente, per cui non capisco tutta questa euforia nel dire che abbiamo avuto qui, siamo stati aiutati, adesso abbiamo avuto un mese e mezzo di fermo, quei soldi lì non li riprendiamo più, quindi è stato un danno economico grosso, anche perché bollette continuano a arrivare, pagamenti continuano a esserci lo stesso, le tasse ci sono ugualmente. Bene, finalmente, dopo un periodo di pausa, di ferie forzate, fra virgolette, però va bene, dai, e speriamo che si possa proseguire, nessun ristoro per il 2020, nessun ristoro. Invece nel 2021? Si spera che ci siano, ma di questo periodo, non so se va avanti così.